Tutto secondo copione, la tosca di Giacomo Puccini ieri sera ha entusiasmato il pubblico del teatro Petruzzelli di Bari. Il debutto del terzo titolo in cartellone per la stagione d'opera 2012 della Fondazione Petruzzelli ha riscosso il successo previsto. Sette le date in cartellone fino al 31 maggio prossimi per l'opera diretta dal maestro Alberto Veronesi con la regia di Michele Mirabella. Solo i costumi sono stati offerti dal Teatro San Carlo di Napoli. Una tosca eroica, appassionata, vibrante per il maestro Veronesi, nominato da poco direttore stabile di un teatro cinese. Tosca è un personaggio centrale nella storia del melodrama italiano che ha forza e capacità di accendersi con grandissima passione, come ha detto Mirabella. Ma come annunciato da Veronesi è stato l'utilizzo delle campane, tanto volute dal regista, che riportano fedelmente il meccanismo di quelle del terzo atto, volute da Puccini nel Novecento, ad aver fatto presa sul pubblico. E non a caso, infatti Puccini era talmente attento alle campane che si fece insegnare da un prelato come fare il tedeum, parte straziante e bellissima dell'opera. Successo caloroso con numerose chiamate alla fine per un'opera che ancora una volta si è dimostrata molto amata dal pubblico.